Gli accordi presi restano intatti e no, non sarà lui a ricoprire l'incarico di vicepresidente in attesa delle dimissioni di Riccardo Rossi. Eppure quel risultato non può certo passare in secondo piano, anzi il sindaco di Villa Castelli, uno dei centri più piccoli della provincia di Brindisi, è stato il più suffragato nella tornata per il rinnovo del consiglio dell'ente di Via De Leo. Una bella soddisfazione perché ad ogni modo altri progetti in linea con quelli di una coalizione sempre più emiliano-centrica. Un risultato eccezionale, un risultato inaspettato, devo ringraziare veramente tutti i consiglieri, davvero tutti coloro che mi hanno supportato in questa campagna elettorale provinciale. Chi mi conosce sa che quando devo fare una campagna elettorale la faccio, la faccio seriamente ed è dovuta ai rapporti umani. Il fatto di essere stato il più suffragato mi riempie di orgoglio, vuol dire tutto, vuol dire anche niente, nel senso che io ho lavorato per la coalizione, ho lavorato per dare dimostrazione a me stesso, ma al presidente Emiliano, di quello che è il mio valore sul territorio, ma ciò non significa che io debba ricoprire chissà quale carica, anche perché ho altri obiettivi e non certamente quello di andare a fare attualmente il vicepresidente reggente per quanto riguarda la provincia. Per quanto mi riguarda abbiamo una riunione, per me dirò quelli che erano gli accordi di un progetto politico, che sia il sindaco di Mesagne, giustamente perché ha lavorato per la squadra, a ricoprire questo ruolo. In questo momento mi sento di dire questo, lo dico con estrema sincerità e soddisfazione, per me poi si vedrà successivamente. Certo e personalmente credo di aver messo un punto fermo per ciò che riguarda l'attività che viene condotta da un sindaco di periferia perché si venga considerati maggiormente rispetto a quello che magari era un risultato in passato.